E' arrivato l'atteso rilascio di 13 ostaggi israeliani grazie all'accordo con Hamas entrato in vigore venerdì. Dopo sette settimane di prigionia sono stati trasferiti in Egitto dalla Croce Rossa e da lì in Israele. Recuperati gli ostaggi il governo israeliano ne ha diffuso le identità. Si tratta di una madre con due bambini, una donna con la figlia, una famiglia di tre persone. Il resto sono ultra settantenni, tutti rapiti nel kibbutz di Niroz. Sono stati liberati anche dieci cittadini italiandesi e un filippino. L'accordo mediato dal Qatar prevede in cambio una tregua di quattro giorni a Gaza e la scarcerazione di 150 detenuti palestinesi. Dopo ore di attese e di nervosismo dei familiari, i primi 39 hanno lasciato in serata il carcere israeliano di Ofer. Grazie a tutti.